Amici di Unibet, eccoci nel ritiro del Napoli, siamo a Di Maro e stiamo seguendo quello che è il raduno, il ritiro degli azzurri che si preparano per il preliminare di Champions League e per il prossimo campionato. Un Napoli che si è radunato a Castelvolturno, poi è arrivato qui in Trentino, ha iniziato già gli allenamenti, tutta la squadra al completo, addirittura alcuni calciatori hanno rinunciato alle vacanze pur di essere pronti agli ordini di mister Sarri. Già abbiamo visto alcuni allenamenti e già si suda qui sulle valli del Trentino e soprattutto si comincia a lavorare per migliorare l'affiatamento di una squadra che è già un gruppo compatto. Volti sereni, anche quello di Pepe Reina perché si era parlato tanto della questione dei volti in questo periodo e soprattutto del fatto che Pepe Reina per ora non avesse ancora rinnovato il contratto. Le ultime notizie danno che si aspetta De Laurentiis che arriverà qui in Val di Sole, qui a Di Maro per discutere i contratti sia di Pepe Reina ma anche quello di Goulamme. È arrivato invece il nuovo acquisto Unas, già si sta allenando e già è nel cuore dei tifosi. Puoi scommetterci unibet.it da Di Maro, noi continueremo a informarvi sul ritiro azzurro. Grazie.